Musica Me tocca la seconda ondata dei livelli De sto maledetto Prince of Persia De sto roscio Musica 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 Eramo rimasti al quinto livello Come vedete si ha zerato tutto quanto Perché non potendo finirlo in un giorno solo Ho dovuto mettere la password Per ricominciarlo Cominciamo subito a combattere contro sto maledetto Eccoci E daie Daie Cituà Ok Allora su Ho visto un'ampolla Come pare Sì Vediamo un po' quanto tempo ci metto a morire No Oppela là Ecco fatto Qua Ecco fatto Mo Devo scendere così Buono Non male Andiamo qua Saliamo qua sopra Che non c'è una mazza Probabilmente Se gliela fai Mi fai una cortesia E vai Gli è col salto Ecco fatto Ma sono tutti chiusi Sti cazzo Dei cancelli Ok Che abbiamo qua Cazzo Brutto Qua è brutto Madre di dio Attenzione Ha già aperto lo sci Che cazzo Maledetto M'ha rubato M'ha rubato M'ha rubato la fiala Maledetto E se faccio il matto Mai fare il matto Mai fare il matto Ricordate Piano Dov'è 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 Eù Cazzo Quanto Sgusci Dai Cidua E Dagli Così Quella Che è L'uscita Ce ne andiamo Cortesemente No Non Non ce ne possiamo andare Vado Che abbiamo qua Noi Scaramentiamo Ho capito Cioè Non c'è Un'uscita qua No Cazzo Portata a casa Attenzione Attenzione Forse portata a casa Portata a casa Allora Allora Qua si è aperto qualcosa Diamo un po' se la porta Qua Sì Mi rimbalzi completamente Ciccio Piano piano Passetto 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 Ok Cazzo Questo sta a 4 Oh Attenzione Matto sta a 4 Oh Attenzione Mitico Sono inoiafaro mai Eh infatti Fabrizio Sei un coglione Che amo Io E aspetta un attimo Che è successo Che cazzo sta succedendo No Non so che cosa ho fatto Non so se Vabbè ho capito Però ho premuto Cioè Sta a fa L'idiota Sta a fa Eh cazzo Dai Non so Non so che cavolo Ho potuto creare C2 E Dai Così Dai Così C'è C'è la madosca E porco 2 E vaffanculo Maledetto Stronzo Eh vabbè Vaffanculo Dai Ci porti giù Fortesemente Ok Qua che abbiamo Piano piano Ok Piano piano Ok Così come matto Vedete che c'è qua giù Vado con me ma posso squattare Come in pochi Attenzione Passetto Eh Poi c'ha sta cosa Che comincia ogni volta Da capo Come un coglione Tensi tua No Dietro 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 Oh Oh Andiamo avanti Facciamo così Mi giro Vai E che dio C'ha la manni tanto Buona e senza Mutanne Come si dice Porca Fatto Fatto E dai E così Zio Qua che abbiamo Sento un'inculatina Così spiccia E Sì Poi Ah Così Non voglio sapere Non voglio sapere Che c'è Che c'è Della Attenzione E' finito Spettacolo Spettacolo Dai Andiamo su Oh Matto Stai a fare Matto Stai a fare E dai E così Ma non vedi Quanto So forte Cazzo E dai Che pio In corsa Ok Poi Scendiamo Lo dico subito Questa qui Ma crepa No Strano Strano Però il mio Il mio non sapere Premere i tasti Mi ha ucciso Quanto ci abbiamo Qua? 40 minuti Eeeh Non è che vanno Tanto bene Attenzione Perché Ok Una volta Ho capito Come si faceva Giustamente Ho perso Per il tempo Maledetto Perché vi ricordo C'è un tempo Questo qua sotto Che bisogna rispettare Altrimenti Perdete automaticamente Tacci loro Noi problemi In tempo Non ne abbiamo Perché Ogni fine livello Ti danno delle password Come sicuramente Ben sapete Noi mettiamo La password Perché Attenzione Non so Che cosa Ho fatto E vado a Favore L'unplaine Capace L'ultimo Di matti Sono stato Passato Attraverso La bocca Dell'inferno Ma va bene Così Attenzione Ma stavo Cadendo Che c'è Qua? A ritaglie Con sto pezzo Sto pezzo Malefico Eeeh Fabrizio 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 Mio Sei un coglione Ma di quelli Veramente Forti Allora Devo scendere per forza Di sotto Devo scendere Per forza Di sotto Va bene Va bene Va bene Cristo santo Santo Cristo No vabbè Oh Porco Porco Sempre sta cosa A tempo Sempre sta cosa A tempo Piano Piano Cioè ma vi sembra Una cosa normale Ma vi sembra Una cosa normale Ma vedete Che gioco De merda Che Cioè ho premuto Prima Il quadro Prima I tasti E mi ha portato All'infinito Ma cagate Per petto Cagate Per petto Tutti Piano 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 Taccì Tua Mo tu botte Do fa contro Questo qui Sul ponte Questo è Il più fio Della mignotta Di tutti Ci proviamo Ci proviamo E taglie E su Ah Qua è tranquilla Sembra Ok Piano Qua che era No Non tocco niente Non tocco niente Perché io provo A fare così No Meno male E vaffanculo M'ha dovuto spragare Oh Gesù mio Dimmi 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 Ragazzi che concludiamo con questo Allora Concludiamo qua il secondo video Nella seconda parte di Prince of Persia Livello 10 Mancano gli ultimi quattro livelli Due o quattro livelli Li faremo la prossima volta Bella Grazie a tutti 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 Grazie a tutti